Questa non è la bandiera dell'Unione Europea, questa è una bandiera che significa Europa, poi l'Unione Europea l'ha scelta, ma in realtà è nata prima, questo è bene essere chiari. Discorso tenuto da Winston Churchill all'Università di Zurigo il 19 settembre 1946. Signor Rettore, signore e signori, sono onorato dell'odierna accoglienza nella vostra veneranda università e del messaggio di ringraziamento che mi è stato consegnato al nome vostro e che ho apprezzato molto. Vorrei parlarvi del dramma dell'Europa, questo nobile continente che comprende nel suo insieme le regioni più ricche e più favorite della terra, gode di un clima temperato ed uniforme ed è culla di tutte le grandi etnie del mondo occidentale. Qui è la fonte della fede cristiana e dell'etica cristiana. Qui è l'origine di gran parte delle culture, delle arti, della filosofia e della scienza, nell'antichità come nei tempi moderni. Se un giorno l'Europa si unisse per condividere questa eredità comune, allora tra tre o quattrocento milioni di persone godrebbero di felicità, prosperità e gloria in misura illimitata. Tuttavia, proprio in Europa è sorta quella serie di terribili conflitti nazionalistici causati dalle nazioni teotoniche nella loro aspirazione al potere, che in questo secolo XX e proprio durante la nostra generazione abbiamo visto rovinare la pace e le speranze di tutta l'umanità. E qual è la condizione in cui è stata ridotta l'Europa? Certo, alcuni piccoli stati si sono ripresi veramente bene, ma in vaste regioni, grande masse, tremanti di esseri umani, tormentati, affamati, angosciati e confusi, guardano atterriti le rovine delle loro grandi città e delle loro case e scrutano il buio orizzonte nel timore di veder sorgere nuovi pericoli, una nuova tirannia o un nuovo terrore. Tra i vincitori domino una babele di voci, tra i vinti il cupo silenzio della disperazione. A tutto questo sono arrivati gli europei. riuniti in così antichi stati e nazioni. A tutto questo sono arrivati i popoli germanici, sbranandosi a vicenda e spargendo rovina. Se la Grande Repubblica, al di là dell'Oceano Atlantico, non si fosse infine resa conto che la distruzione o la riduzione in schiavitù dell'Europa avrebbe potuto coinvolgere anche il suo destino e non ci avesse teso la mano in soccorso e guida, sarebbero tornate le epoche buie in tutta la loro crudeltà ed il loro squallore. E i signori possono ancora tornare. Eppure esiste un rimedio che se fosse generalmente e spontaneamente adottato dalla grande maggioranza dei popoli in molti paesi, come per miracolo potrebbero trasformare l'intera scena e rendere in pochi anni tutta l'Europa, o almeno la maggior parte di essa, libera e felice come oggi la Svizzera. Qual è questo rimedio sovrano? Esso consiste nella ricostruzione della famiglia, dei popoli europei o un quanto più di essa possiamo ricostituire e nel dotarla di una struttura che la permetta di vivere in pace, in sicurezza e in libertà. Dobbiamo creare una specie di Stati Uniti d'Europa. Solo in questo modo centinaia di milioni di lavoratori saranno in grado di riconquistare le semplici gioie e le speranze che rendono la vita degna di essere vissuta. Il procedimento è semplice. Tutto ciò che occorre è che centinaia di milioni di uomini e donne decidano di fare il bene invece del male e di meritare come ricompensa di essere benedetti invece che maledetti. Molto lavoro, signore e signori, è già stato fatto a tale scopo mediante gli sforzi dell'Unione paneuropea che tanto deva al conte e poi c'è un nome tedesco quasi illegibile, Codonoven Calergi, e che orientò l'operato dell'unuso patriota e statista francese Aristide Lirian. Vi è anche questo immenso complesso di principi e procedure che è stato creato tra grandi speranze dopo la Prima Guerra Mondiale, intendo dire la Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni non è fallita a causa dei suoi principi o delle sue concezioni. Essa è fallita perché gli stati che l'avevano fondata hanno abbandonato i suoi principi. È fallita perché i governi di allora temevano di guardare in faccia la verità e di agire finché erano in tempo. Quel disastro non deve ripetersi. Vi sono quindi a disposizione molta conoscenza e lavoro preparatorio su cui ricostruire ed anche dolorose esperienze pagate a caro prezzo per motivare i costruttori. Sono stato molto felice di leggere due giorni fa nei giornali che il mio amico presidente Truman ha espresso il suo interesse e la sua simpatia per questo grande progetto. Non esiste alcuna ragione per la quale un'organizzazione regionale europea debba in qualche modo entrare in conflitto con l'organizzazione mondiale delle Nazioni Unite. Al contrario, io credo che questa più ampia sintesi di nazioni può sopravvivere solo se si fonda su omogenei raggruppamenti naturali. Nell'emisfero occidentale esiste già un raggruppamento naturale. Noi britannici abbiamo il nostro Commonwealth di nazioni che non indebolisce l'organizzazione mondiale ma al contrario la rafforza. Infatti ne costituisce il principale sostegno. E perché non dovrebbe esistere un raggruppamento europeo che potrebbe dare un senso di ampio patrottismo e di cittadinanza comune ai popoli smarriti di questo inquieto e potente continente? E perché non dovrebbe occupare il posto che gli spetta tra gli altri grandi raggruppamenti e contribuire a modellare i futuri destini dell'umanità affinché ciò possa compiersi occorre un atto di fede al quale milioni di famiglie parlanti lingue diverse devono consapevolmente associarsi. Noi tutti sappiamo che le due guerre mondiali che abbiamo vissuto sono scaturiti dalla vana passione di una Germania appena unificata di svolgere un ruolo dominante nel mondo. In quest'ultimo combattimento sono stati commessi crimini e massacri che non hanno paralleli sin dall'invasione dei Mongoli nel XIV secolo e non hanno eguali in alcuna epoca della storia umana. La Germania deve essere privata della capacità di riamarsi e di scatenare un'altra guerra d'aggressione. Ma quando tutto questo sarà stato fatto, come verrà fatto, come si sta già facendo, bisogna finirla con la legge del taglione. Bisogna che vi sia quello che Gledstone diversi anni fa chiamava un atto salutare di dimenticanza. Dobbiamo tutti voltare le spalle agli orrori del passato. Dobbiamo guardare al futuro. Non possiamo permetterci di trascinare per gli anni a venire gli odi e le vendette nate dalle ferite del passato. Se l'Europa deve essere salvata da una miseria senza fine e in definitiva dalla rovina finale, bisogna che vi sia quest'atto di fede nella famiglia europea e quest'atto di obbligo verso tutti i crimini e le follie del passato. Possono i popoli liberi d'Europa elevarsi a livello di questa disposizione dell'animo e dell'istinto dello spirito umano? Se lo possono, i torti e le ferite che sono stati inflitti verranno cancellati da tutte le parti, con le privazioni sopportate. Vi ha ancora bisogno di altri fiumi di sofferenze? L'incorreggibilità umana è la sola lezione della storia che regni la giustizia, la pietà e la libertà. I popoli devono solo volerlo e tutti realizzeranno il loro desiderio piccano. Vi dirò ora qualcosa che vi sorprenderà. Il primo passo verso la ricostruzione della famiglia europea deve essere un'alleanza tra la Francia e la Germania. Solo così la Francia potrà recuperare il suo ruolo di guida morale e culturale dell'Europa. Non vi può essere rinascita dell'Europa senza una Francia spiritualmente grande e senza una Germania spiritualmente grande. La struttura degli Stati Uniti d'Europa, se costruita bene e con lealtà, sarà tale da rendere meno importante la forza materiale di un singolo Stato. Le nazioni piccole conteranno come le grandi e verranno considerate per il loro contributo alla causa comune. I vecchi Stati e principati della Germania, riuniti liberamente per reciproca convenienza in un sistema federale, potranno prendere i loro posti individuali insieme agli Stati Uniti d'Europa. Non tenterò di fare un programma dettagliato per centinaia di milioni di uomini che vogliono essere felici e liberi, prosperi e sicuri e che vorrebbero godere delle quattro libertà di cui ha parlato il grande Presidente Roosevelt e vivere secondo i principi ancorati nella Carta Atlantica. Se tale è il loro desiderio, se tale è il desiderio degli europei di così tanti paesi, devono soltanto dirlo e si troverà certamente il mezzo e verranno create le istituzioni per portare questo desiderio alla sua piena realizzazione. Ma devo avvertirvi, forse rimane poco tempo. In questo momento godiamo di un periodo di tregua, i cannoni hanno smesso di sparare, i combattimenti sono cessati, ma non sono cessati i pericoli. Se dobbiamo costruire gli Stati Uniti d'Europa, non importa sotto quale nome, dobbiamo cominciare adesso. Attualmente viviamo abbastanza stranamente e in modo precario sotto lo scudo e vorrei persino dire la protezione della bomba atomica. Finora la bomba atomica si trova solo nelle mani di uno Stato, di una nazione che sappiamo non la userà mai se non per difendere il diritto e la libertà. Ma può darsi che tra qualche anno questo orribile ordigno di distruzione sarà largamente diffuso e la catastrofe che seguirebbe al suo impiego da parte di diversi paesi in guerra non solo metterebbe fine a tutto quello che noi chiamiamo civiltà, ma potrebbe persino disintegrare lo stesso globo terrestre. Bisogna ora che vi riassuma le proposte che avete davanti. Il nostro fine costante deve essere di creare e rafforzare l'organizzazione delle Nazioni Unite. Sotto la direzione e nel quadro di questa organizzazione mondiale dobbiamo ricreare la famiglia europea in una struttura che potrebbe chiamarsi Stati Uniti d'Europa. Ed il primo passo concreto sarà quello di costituire un Consiglio d'Europa. Se da principio non tutti gli Stati d'Europa vogliono e sono in grado di far parte dell'Unione, dobbiamo ciò nonostante continuare a riunire e a organizzare quelli che vogliono e quelli che possono. In mezzo per risparmiare agli uomini di ogni razza, di ogni paese, la guerra e la scavitù, deve poggiare su solide basi ed essere assicurato dalla disponibilità di tutti gli uomini e di tutte le donne a morire piuttosto che sottomettersi alla tirannia. E Francia e Germania devono prendere insieme la guida di questo urgente lavoro. La Gran Bretagna, il Commonwealth britannico, la potente America e spero la Russia sovietica, perché allora tutto andrebbe bene, devono essere amici e sostenitori della nuova Europa e devono difendere il suo diritto a vivere e a risplendere. Perciò vi dico lasciate che l'Europa sorga.